Secondo le prime informazioni in nostro possesso ci sono 4-5 stranieri, tra i quali due italiani e due israeliani che si trovavano nella zona di Mokoa colpita dalla valanga di fango, che non hanno ancora dato loro notizie alle rispettive famiglie. La dichiarazione di Cesar Uruena, responsabile del soccorso della Croce Rossa colombiana, getta nuovi timori sulla possibile presenza di nostri connazionali a Mokoa, la cittadina della Colombia, travolta da una valanga di fango nella notte tra sabato e domenica scorsi. Preoccupazione per un hotel in particolare, nella zona più colpita, dove erano ospiti diversi stranieri. Ad oggi tuttavia nessuna conferma ufficiale. In ogni caso, l'unità di crisi della Farnesina sarebbe in contatto con le autorità del paese sudamericano per le opportune verifiche. E intanto sono almeno 254 le vittime dello tsunami di fango, 62 invece i minori che hanno perso la vita, corpi appoggiati a terra. So che ogni caro che abbiamo perso sia insostituibile, afferma in un messaggio alla nazione, il presidente della Colombia, Juan Manuel Santos. So che questo dolore ci accompagnerà per sempre, ma è possibile superare la tragedia, perché la speranza è possibile. Per questo dobbiamo dedicare noi stessi affinché la speranza possa tornare a Mokoa. A devolverle la speranza a Mokoa. Solidarietà da tutto il mondo, anche l'Unione Europea si dice pronta a fare la sua parte. Siamo con voi, scrive l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini.